Firefly Lady Gaga con Tony Bennett nella mattina di RBA in tv, in radio e sul web. Siamo nel bellissimo contesto, nel cortile, negli spazi del Palazzo Alfieri che ospita il consorzio Barbera Dasti e Vini del Monferrato per la Duia d'Or 2022 fino al 18 di settembre. L'appuntamento con questo rito della Duia d'Or che dal 1967 con l'intuizione del Presidente della Camera di Commercio Giovanni Borello che all'epoca diede il via alla Duia d'Or. E ci ritroviamo nel presente, nel 2022, con il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Giampaolo Coscia. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a voi. Ben arrivato ai nostri microfoni qui su RBA, siamo nel bellissimo contesto del Palazzo Alfieri, Duia d'Or è entrata nel vivo, poco fa la sfilata delle sagre di Asti e del territorio astigiano, un momento molto sentito, finalmente direi si riparte. Finalmente si riparte, anche quest'anno abbiamo acquisito i nostri partner tradizionali del settembre astigiano che poi sono il Festival delle Sagre e quindi la sfilata, la Duia d'Or e tutte le iniziative, il Palio che quest'anno sono fatte. C'era tanta voglia di ripartenza, come giusto che fosse, perché noi sappiamo tutti da che anni arriviamo e l'ha ricordato lei bene prima, questa è un'iniziativa che è nata dalla lungimiranza del Cavaliero Borello. Da allora tante cose sono cambiate, tante cose si sono modificate, però è sempre rimasto intatto lo spirito che è quello che ha seguito queste iniziative in tutti questi anni. Cioè mettere al centro di tutto veramente il vino che è l'elemento cardine, cardine attraverso tutte le sue declinazioni, perché io sono solito dire che il vino rappresenta una motrice che traina tutti i vagoni dell'economia e questa è una cosa fondamentale. Come potete sentire siamo in diretta, sono le campane di mezzogiorno che segnano insomma un momento importante della giornata, tra l'altro è stato aperto il ristorante del bistrò della Duia d'Or qui a Palazzo Alfieri, insieme al presidente della Camera di Commercio Alessandro Astri, Gian Paolo Coscia, stiamo andando dietro le quinte della Duia d'Or, tanti consorsi di more storiche che ospitano queste belle, in realtà il prurale del territorio Unesco. Assolutamente sì, qua si è creato un forte gruppo, se siamo riusciti a fare tutta questa iniziativa con uno sforzo non indifferente da parte della Camera di Commercio ma anche di tutti gli altri, perché c'è una volontà di tenti e tutti insieme ci siamo seduti proprio per cercare di fare innanzitutto questa iniziativa che è fondamentale per l'editorio ma tutti insieme di programmare e di gestire questa iniziativa. Questa è un'iniziativa che vede la Camera di Commercio, va bene, ma vede la fondazione, il caso di risparmio di asti, la banca, i consorsi fondamentali che sono il consorzio del Barbera e il Moscato d'Asti, le associazioni in categoria, l'Unione Industriale, l'Asco e tutte quelle agricole proprio perché questa iniziativa nasce da una volontà comune di fare bene. Ecco, la volontà di fare bene e di farlo insieme, questo è anche un altro aspetto che vorrei stottolineare per ripartire, la Duyador riparte finalmente a pieno regime, mi permetto di dire così, fino al 18 di settembre tanti appuntamenti, cosa potremmo vivere qui a Asti, abbiamo avuto modo di incrociare le tante proloco, ecco, l'aspetto territoriale e delle comunità, questo è un altro secondo me elemento fondamentale della Duyador. Ma io penso che la tradizione e tutto il passato sia fondamentale per programmare il futuro, in questa settimana proprio condensata cerchiamo di riproporre, il comune ha fatto il paglio, ricordiamoci, anche lui era fermo da tre anni, il festival delle saghe, la sfilata, io arrivo oggi adesso dalla sfilata dove c'è stata una partecipazione straordinaria, un ritorno al passato ma proprio da far conoscere, da far apprezzare soprattutto alle nuove generazioni. In settimana nei palazzi che ci sono stati messi a disposizione, ringrazio il comune d'Asti, palazzi storici bellissimi, qua siamo Palazzo Alfieri, ma poi Palazzo Ottolenghi, Palazzo della Camera di Commercio dove quest'anno abbiamo voluto proprio fare l'inaugurazione, sono a disposizione della cittadinanza, di tutto, ma anche degli operatori attraverso delle iniziative che sono talk show, che sono incontri con i buyer, perché il vino, c'è un mio amico Vignaiolo che dice che ormai tutti siamo capaci a farlo ma poi bisogna venderlo. Allora siccome questa è una vocazione, è un terreno con una vocazione straordinaria, si producono i vini eccellenti, anche la vendita all'estero è fondamentale, quindi già in questa settimana si vedono numerosi stranieri, giornalisti stranieri, imprenditori stranieri per comprare i nostri vini. Quindi Camera di Commercio di Alessandre Asti che favorisce e anzi stimola il B2B, il commercio e la promozione del territorio, del brand Asti e Alessandre Asti, in questo caso in tutto il mondo. Abbiamo parlato poco fa anche con il Presidente del Consorzio, sappiamo quanto sia importante essere credibili e continuare a rappresentare con i milioni di bottiglie in tutto il mondo quello che è il prodotto dell'Astigiano e dell'Alessandrino. Questa è una grande responsabilità per la Camera di Commercio come punto di riferimento. Sì, noi abbiamo tante cose che facciamo, non dimentichiamoci che siamo la casa delle imprese. Siccome il settore vitivinicolo, il settore agricolo della provincia di Alessandria e di Asti è fondamentale perché noi Alessandri e Asti sono quasi il 66% della superficie vitata e di produzione di tutto il Piemonte, quindi abbiamo una grossa responsabilità e comunque tutti insieme ci confrontiamo perché vogliamo che questo territorio insomma venga portato agli onori della club perché se lo merita. Fino al 18 di settembre, Duyador ad Asti, duyador.it, questo è il sito, vi invitiamo a dare un'occhiata anche ai social, abbiamo presentato le attività, la presenza della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, motore di Duyador 2022, abbiamo avuto con noi il Presidente Giampaolo Coscia che ringrazio, buona Duyador, buon lavoro e buon 2022-23. Grazie e buona Duyador a tutti. Grazie.